La cosa più stressante nel Super Bowl è, um, il Super Bowl è come un santuario, lo spettacolo sacro dell'America, messo in scena prima, quindi non c'è pressione, aspetta la parte folle, ho otto minuti per allestire il palco, sono nervoso con uno spettacolo del genere perché giocano a football tutto il giorno, non ho tempo per fare un controllo del suono, giusto, come se fossi... Devo solo entrare, è un po' come uno spettacolo circense, entra, srotola il mio tappeto, metti in scena e vattene. Ecco cos'è accaduto, ero sulla cima di una torta nuziale, come si fa di solito, e ho camminato lungo i gradini che rappresentavano i livelli di una torta nuziale, e ho perso la mia scarpa, ho perso le mie scarpe bianche, il mio stiletto bianco, e ho pensato, oh Dio, come farò ad ottenerlo? È laggiù e sono in tv, quindi farò semplicemente...